ritrovati ai soci di terza università. Oggi entriamo in Palazzo della Ragione dal punto indicato dalla freccia gialla, cioè dalla facciata verso sud, che è la facciata antica esposta alla platea Parva dei Santi Vincenzi, come veniva chiamata in antico. Una facciata che i secoli rimaneggeranno notevolmente. Noi però entriamo in un punto cruciale perché è il punto di snodo, non solo fisico, ma anche proprio ideologico, tra il potere vescovile e il nuovo potere comunale. I documenti antichi dicono che in quel luogo sorgeva un arengo, cioè un solenne luogo, qui si pensava a una scalinata, da dove il comune manifestava se stesso, leggeva le delibere, proclamava le sentenze, rendeva note le decisioni in modo solenne. Ecco lo scalone è smentito dalle evidenze archeologiche dei recenti scavi della cattedrale di San Vincenzo, quindi resta aperto il problema di come questo luogo si presentava intorno al XII secolo, come resta aperto il problema, sempre all'attenzione degli storici, dei rapporti tra potere vescovile e potere comunale. Di fatto il potere comunale, questi consoli, trovano la loro incubatrice, proprio alla loro gestazione all'interno del potere vescovile. Pensate che anche i documenti parlano di palaccio episcopi dal 1144 come luogo degli incontri di maturazione di queste nuove figure e di queste nuove posizioni di potere, che si chiariranno solo nel 1198, che è la data che noi riteniamo, che si ritiene oggi, definitiva di conclusione del palazzo che noi oggi andiamo a visitare. Ecco, il rapporto tra il potere vescovile e il potere comunale è abbastanza espresso dai tre pilastri che noi visiteremo per primi, che guarderemo con attenzione per primi in questa nostra visita virtuale. Sono tre pilastri che anche nella loro collocazione fisica probabilmente esprimono un simbolo implicito, cioè un messaggio implicito al potere vescovile e come, così, come manifestazione di una nuova identità, una nuova identità che noi vediamo subito in questo pilastro, molto noto detto pilastro della Concordia, pensate che bella la parola Concordia, dove noi vediamo 33 personaggi alti uguali, quindi equipotenti, di pari dignità sociale, in un'epoca nella quale la rappresentazione dell'altezza aveva significato simbolico e non fisico, quindi qui equipotenti si tengono per mano, con la testa sorreggono il palazzo dove si ragiona, la mole di questo palazzo dove si ragiona. Sono alti uguali ma hanno tuniche diverse nei bordi. Questo consente di avanzare l'ipotesi che si trattasse di questi bordi rappresentassero degli emblemi araldrici delle vicinie, cioè delle assemblee dei capi famiglia in formazione embrionale come diffusione di una democrazia nel territorio, nei vari quartieri della città, con questa istituzione, il riconoscimento di questa realtà delle vicinie, cioè così una identità democratica diffusa nel territorio. Questi esprimevano, queste vicinie esprimevano i loro rappresentanti, i loro rappresentanti si riunivano in questo nuovo palazzo e esprimevano il governo momentaneo, molto molto temporale, cioè i due consoli e il podestà che vediamo qui rappresentati nella testata d'angolo. Il podestà che regge tra le mani le chiavi della città proprio lo tiene sul petto e sul petto anche, difficilmente leggibile oggi, ma sembra di leggere un sole raggiato che potrebbe essere l'embrione di quello che diventerà lo stemma della città di Bergamo, il sole raggiato dello stemma di Bergamo. Quindi questa iconografia di questo pilastro, di questo palazzo in formazione, ci presenta un precoce ciclo figurativo, precoce perché il palazzo è uno dei primi che trova conclusione come palazzo civico in pianura padana, ed esprime con allegorie l'immagine del potere. Un potere che qui potremmo dire, iniziando quasi una lezione di educazione civica, abbastanza suggestiva perché è per immagine, del potere legislativo, cioè questi personaggi alti uguali, una sorta di parlamento antiliteram, e di governo antiliteram dei tre personaggi in questa breve durata di mandato, che sono i consoli e il podestà. Quindi una rappresentazione per immagini delle principali magistrature del comune, con una suggestiva enfasi figurativa di quello che è il patto di alleanza e di concordia. Il secondo pilastro, avvicinandoci sempre di più verso sinistra alla sede di Scoville, rappresenta quello che ne potremmo dire un embrione di potere giudiziario, perché vediamo il maestro dei Cives con il libro dei bandi, tiene in mano, con occhi spalancati, proprio ci trasguarda, sempre nella pietra angolare, e tiene in mano questo libro che raccoglie le sentenze del maleficio, cioè le sentenze di condanna. Ecco, questo libro era conservato in tre copie, a cura di questo maestro dei Civers, le tre copie erano in una camera blindata, all'interno di questo porticato dove noi ci troviamo. Il porticato, scusate la breve digressione, si svuoterà solo con i rimaneggiamenti del primo cinquecento. Originariamente era occupato da vari ambienti. Ecco, e questo maestro dei Cives procede da un ortaglia molto lusureggiante con dei frutti dei baccelli maturi e porta avanti questo libro, espone questo libro dei bandi e delle sentenze che venivano lette proprio in quel luogo ad exemplum in negativo. Il terzo capitello, proprio a redosso, in fregio alle murature della cattedrale, è questo capitello che ci mostra proprio sempre nella pietra angolare un angelo, che non ha però solo delle ali, ma non ha altri simboli religiosi. Tiene in mano dei rotoli. Rotolo evoca immediatamente il concetto di legge, di qualche cosa che dall'orale sta diventando scritto e dietro questa figura compare un'aquila e due falchi. Sono uccelli di grande significato simbolico perché vogliono darci, dietro questo personaggio alato, l'immagine di un'implacabile vista acuta, come acuto allo sguardo dell'aquila, di un discernimento attento come l'attenzione dell'aquila rapace che fionda sulla preda e come lo sguardo dei falchi che hanno un attento discernimento come deve essere quello dell'azione, dell'azione legale. Questa legge verbale che vola di bocca in bocca sta planando nel portico, trova una sua forma scritta ed è le immagini di grande attenzione e di grande attenzione al rispetto della legge, grande capacità inquisitoria come immagini appunto della capacità inquisitoria della giustizia, in un'idea evocatrice dell'arrivo, con questo angelo, del messaggio della sacralità della legge. Mi sembra un'immagine di grande attualità, di grande significato, sacralizzare proprio la legge che scaturisce dall'incontro dei personaggi che abbiamo da poco incontrato nel precedente pilastro. Ecco, questi tre pilastri ci hanno permesso un percorso dal potere legislativo all'esecutivo al giudiziario, esplicitati e manifestati proprio vicini alle vecchie precedenti forme di potere, espressione di un'aristocrazia che è in superamento. Questa nuova aristocrazia la vediamo così tratteggiare il suo progetto di buon governo nei due pilastri che troviamo nel fianco occidentale prospicente a quello che noi oggi chiamiamo Palazzo del Potestà. Il primo che vediamo è un capitello che ci mostra un giardino. L'ortaglia, così lussureggiante della legge, è diventata un giardino. Due fiori costeggiano due personaggi, uno vestito e uno nudo, quindi devo dire uno ricco è vestito quello di sinistra, nudo quello povero, che in ginocchio facendo pressione con le braccia, con le mani sulle ginocchia, con le spalle e con il collo sostengono la trabeazione del palazzo dove si ragiona. In mezzo ci sono due ocche con i colli attorcigliati. Le ocche esprimono due significati allegorici per i contemporanei dell'epoca. Prima di tutto vigilanza e attenzione, le ocche del Campidoglio. Poi fedeltà, era ritenuta proverbiale la fedeltà del maschio dell'oca, queste erano le credenze dell'epoca, nei confronti della sua compagna. Questa immagine di sostegno, di fedeltà, di alleanza tra ricco e povero, ritorna proprio come sostegno e forza di sostegno anche all'esterno, purtroppo molto dilavato dallo stesso capitello che vi mostro con la freccia blu. Li vediamo due uomini inginocchiati su di un ginocchio che con un piede e con il ginocchio premono sul pavimento per spingere con le braccia alzate, che il sostegno per dare forza al sostegno che le braccia alzate danno a sempre la trabeazione del palazzo. Quindi questa è una bellissima immagine di forze contrapposte, di forze proprio dinamiche, di tensione e pressione, spinta e controspinta di masse architettoniche, di masse fisiche, ma che diventa anche un così evocativa di spinte e controspinte, tensioni, pressioni, tesi, antitesi, che devono trovare una sintesi nel dibattito che si svolge proprio in quel palazzo, in quegli ambienti dove si ragiona e dove scaturirà la sintesi che è la decisione politica, frutto però di grandi dibattiti, di scontri, di contrapposizioni, di forze. Questa bellissima immagine trova il suo elemento originario nel Liber Pergaminos di Mosè del Brolo. Dobbiamo tornare indietro 70 anni prima e troviamo una sorta di paradigma, di profezia, di progetto di società in questo testo nel quale Mosè del Brolo idealizza la Pax Aurea, la Concordia Civium, descrive la città e tratteggia quello che è il governo auspicato della città, il patto bilaterale tra cittadini e potestà, la concordia tra i cittadini e soprattutto la realizzazione come progetto di una Pax Aurea. Questo testo di Mosè del Brolo sembra trovare una sua programmazione politica nelle immagini che abbiamo visto, quindi ispira il corredo scultorio che abbiamo visto, ma soprattutto ispirerà, vuole ispirare, si prefigge di essere il sentiero che vuole seguire il nuovo governo. Qualche informazione su Mosè del Brolo. Mosè del Brolo lascerà Bergamo intorno al 1130, si sposta a Costantinopoli, diventa un personaggio molto influente nella corte imperiale, noi abbiamo sue informazioni da due lettere che sono conservate da Maike, scrive al fratello, e tornerà in Italia, diventerà vescovo di Ravenna e lì verrà sepolto. Ultima notazione sul Liber Pergaminus. Si tratta di un testo che era diffuso nell'Alto Medioevo come sorta di Liber Laus Civitatis. Però le antiche Laus Civitatis, che però erano già un po' in disuso, diciamo, nella cultura corrente del XII secolo, avevano un significato ageografico. Vantavano i martiri, vantavano la religiosità, i vescovi, la santità della città. Mosè del Brolo non fa questo. Esalta l'antichità della città, la dà come esempio, ispirandosi forse ancora alla Repubblica Romana, come esempio da seguire la progettazione di una società così auspicabile, una società perfetta. Il fatto di avere un testo di questo tipo, che tratteggia una profezia, tratteggia un tipo di governo, dandolo quasi già come acquisito in una città che forse invece aveva ben altri problemi, è proprio un elemento di notevole vanto, credo, per la nostra città, per la nostra identità civica. Se noi vediamo i capitelli, l'altro capitello a fianco di questa, che rappresentava appunto l'unione del ricco, del povero, la forza nel sostenere il palazzo, troviamo questo capitello dove da un giardino molto ben tratteggiato, vedete un pozzo ancora di fiori, delle verzure, vedete che da un giardino, dove occhieggia un personaggio che si tiene una mano sul cuore e l'altra alla vita, forse per fermare delle armi, vedete che questo personaggio guarda un leone, il leone con una criniera liscia, con gli occhi molto aperti, che ha ai suoi piedi il leoncino. Un leone molto preciso nella sua forza, vedete il sesso come è ben delineato, un leone che veniva ritenuto dagli antichi un animale di grande significato, perché cancellava le tracce con la coda, dormirebbe ecco ad occhi aperti, veniva ritenuto come un emblema di forza, di coraggio, di vigilanza, di propensione alla pace e di clemenza. Addirittura il leone, si riteneva che il cucciolo del leone nascesse morto e ci fosse nella necessità di tre giorni con il terzo giorno risvegliato dal continuo alitare del padre, il leoncino si risvegliava, quindi tre giorni, attenzione padre e figlio, vedete che evocano qualche cosa di ben preciso radicato nella tradizione cristiana della città. Il leone quindi diventa un'immagine del comune, un animale di forza pronto alla ferocia, pronto all'attacco, ma parimenti pronto alla clemenza, pacifico se tozzo come qui e con la criniera, invece con la criniera liscia, invece pronto all'attacco se slanciato con la criniera arruffata. Quindi un'immagine di regalità piena di clemenza, ma pronta all'attacco a chi avesse, diciamo, disturbato una pace, una concordia civica. Dove vengono queste immagini? Queste immagini, che qui rivediamo in altri particolari, soprattutto molto bello questo del rapporto di occhi tra il leone padre e il leoncino figlio in nascita, trovano queste credenze, queste simbologie, questi significati direi quasi etici, trovano origine nel testo del Fisiologus, questo testo concepito in ambito alessandrino nel II-III secolo, ripreso da Isidoro da Siviglia nel VI secolo, che diventa un trattato fondamentale di riferimento sia per l'iconografia sia per la progettualità etica di tutto dei secoli successivi. Continuando il nostro giro, noi vediamo in molti capitelli del palazzo una serie di fogliami con un distacco notevole dal classico linguaggio forbito dalle foglie d'accanto dei capitelli che avevamo visto in Santa Maria Maggiore. Sembra che queste verzure così feriali, così quotidiane, così vicine all'esperienza dell'ortaglia, dell'orto ben coltivato, del brolo, il brolo è il terreno recintato intorno alla casa, coltivato a frutteto e a ortaglie, dove si sviluppa la piena attenzione per la natura del padrone di casa. Ecco, queste erbe così vicine al quotidiano, così realistiche, così poco auliche, vogliono essere forse proprio un distacco da una cultura aulica, da un linguaggio espressione di un potere che si vuole superare, un potere che vuole essere vicino a un popolo, non essere popolaresco, ma essere un atteggiamento, un linguaggio di autonomia e di vicinanza alla vita quotidiana. Semplice. Come è ripresa questa attenzione a una quotidianità più feriale? Da questi mascheroni giullareschi, che traspaiono in altri capitelli sempre tra foglie, come abbiamo già visto, e questi mascheroni ci evocano la figura dei grilli, che sono, come abbiamo visto nel precedente modulo, queste figure di curiosità per richiamare l'attenzione, quindi con una funzione mnemotecnica, che vogliono così alleggerire i messaggi complicati e complessi sia dei codici miniati, delle pagine di pergamena dei codici miniati, sia dei fronti scultorei delle cattedrali, vogliono però nello stesso tempo sdrammatizzare, divertire, decorare, ma richiamare un'attenzione che potrebbe essere un po' così affaticata, a richiamare l'attenzione a cose più importanti rappresentate nelle vicinanze. L'ultima immagine, che ritroviamo ancora un'immagine di Brollo, e nell'intradosso di questa finestra, che vedete indicata dalla freccia sempre nel fronte ovest, viene rappresentata una vigna matura. Vigna matura, come conclusione, a me piace pensarla come una vigna laica, non una vigna pronta alla transustanzazione, ma una vigna immagine del risultato del lavoro di un anno, in attesa del raccolto, in attesa del trasformarsi in vino, in un'ebrezza che scalderà il prossimo inverno. Bellissima questa immagine della vigna. Con questo lasciamo così il corredo dell'età comunale, perché concludiamo guardando cosa succede al Palazzo della Ragione nel terzo o quarto decennio del Quattrocento. La città cresce, il comune ha avuto delle grandissime vicissitudini, arrivano nuove forme di potere, è arrivata Venezia, si sta formando la piazza nuova che noi oggi chiamiamo vecchia, il palazzo ribalterà il suo fronte, diventa più importante la nuova piazza dell'antica piazza e sulla nuova piazza verso sud nuovi leoni, ma questa volta sono i leoni di San Marco. Venezia arriva, colloca due leoncini, se avrete la pazienza di andare a recuperarli, che ci aiutano a capire un diverso linguaggio, un diverso significato di figure. Non è più il leone simbolo, emblema del comune, ma diventa il leone di San Marco, questo stesso leone presente sulle facciate di Palazzo Lucale, come voi vedete qui, e che diventerà il grande leone con inginocchiato il doge Foscari, che per molti secoli dominerà la facciata di Palazzo della Ragione. Arriva Venezia, arriva un nuovo potere, arrivano nuovi linguaggi, nuove simbologie, nuovi significati alle immagini, nella crescita proprio della storia, ma a Bergamo resta una cosa molto importante. Quell'angelo che annunciava la sacralità della legge con i rotoli, che stava bloccando sui rotoli quello che vola di bocca in bocca, cioè il messaggio importante della legge che cementa il consenso, queste norme vengono codificate grazie ai nostri giurisconsulti, pensate appunto al ruolo importante del brinco da rociate. Venezia arriva, ma il comune di Bergamo mantiene una sua dignità. La dominante deve rispettare gli statuti, è un accordo molto preciso di rispettare certe norme che la città nella tradizione si è data, soprattutto nei momenti della sua più alta autonomia. Per concludere vi voglio proprio mostrare una coppia tarda degli statuti di Bergamo, una coppia del 1453, già ormai in piena presenza di Venezia al potere, è una coppia appartenuta ad Antonio Bonghi, Antonio Bonghi è il committente presso un grande miniatore che è Jacopo da Balsamo, di questo codice che si tiene molto caro a casa sua, che riporta addirittura il suo ritratto nella lettera P, nella capolettera P della Collazio prima, primo articolo, comma primo del primo articolo, nella nomenclatura proprio pensata dal brinco da rociate. Quindi Antonio Bonghi deve leggere, ispirarsi, guardare, consultare in questo elegantissimo statuto che ha voluto appunto per sé. La figura di Antonio Bonghi ci interessa perché ci introduce a Bartolomeo Colleoni, sarà l'esecutore testamentario, sarà lo storico di Bartolomeo Colleoni e noi nel nostro prossimo modulo entreremo proprio in cappella Colleoni, guarderemo pietre scolpite che non ci raccontano più di un trattato di dottrina e di etica istituzionale come abbiamo cercato di vedere nei capitelli di Palazzo della Maggione, ma ci racconterà un diverso progetto di società, un diverso progetto di politica, un trattato forse più di ideologia che non di istituzionale, di dottrina istituzionale. Sarà appunto il progetto, l'utopia politica, il programma politico di Bartolomeo Colleoni. Io vi ringrazio della vostra attenzione e vi invito molto calorosamente a scrivere a Terza Università, a mandare dei commenti, delle critiche, delle domande per tenere vivo quel rapporto che questi tempi ci rendono così un po' più ostacolato e difficile. Grazie della vostra attenzione.